Ma insomma, questo non è mai stato e non è una coalizione. La coalizione è fatta di partiti che cercano le mediazioni su ciascun problema. Questo è un patto che dice tu approvi le mie, approvo le tue e ciao. Dopodiché però alla lunga i rispettivi elettorati non se le bevono, quella degli altri. Però le tue e le loro alla fine sembrano finite, però no? Sì, diciamo che devono arrivare alle europee più o meno facendo questa parte. Si sono trovati assieme nel chiedere deficit sostanzialmente per poter fare ciascuno la sua cosa. E adesso ci saranno le europee. Dopodiché è chiaro che la situazione resta molto instabile. E io ho letto questa instabilità quando ho visto la legge di bilancio. La legge di bilancio è stata fatta come se non ci fosse un domani. Quindi qualcuno ci penserà. E quindi certamente c'è da aspettarsi che le turbulenze non diminuiscano. Io credo che aumenteranno. Un'ultima domanda. Grazie. 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 Grazie.